Ragazzi, ciao a tutti! Siamo in Friuli a Gemona! Qui di fianco a me c'è Marco, Marco Ponta, un nostro amico, Ibro, e siamo appena partiti in pieno stile friulano, quindi già qui una bella rampetta. Intanto, qui a mia destra c'è il Duomo stupendo di Gemona, guardate che spettacolo! La giornata è magnifica e noi veramente non vediamo l'ora di dirigerci verso l'obiettivo di oggi che è una cosa che ci gasa a mille! Via che si vola! Siamo appena atterrati a Benzone! Stupendo questo paesino! Già un po' lo conoscevamo ma è proprio bello! È incastonato proprio tra le montagne! E la cosa che stiamo notando questa mattina sarà il sole! Sarà i pioni ciclabili! Ma ci sono una valanga di ciclisti! Cicloturisti da tutte le parti! C'è una cosa impressionante! Buongiorno! Siamo appena usciti da Benzone! Stiamo oltrepassando il tagliamento! C'è quasi, quasi la temperatura da bagno! Oggi siamo insieme ai ragazzi di Gravellata, li ho fortemente voluti quest'oggi per fare un giro che è inedito! Io e i ragazzi ci conosciamo già da parecchio tempo quando correvamo in scotti mountain bike, io sto continuando a gareggiare mountain bike e ciclocross e niente diciamo che ho abbracciato anch'io un po' lo spirito gravel perché come si diceva ieri con i ragazzi ha fatto un po' rinascere la scintisa del divertimento, della passione della dici perché scopri posti nuovi, posti anche mai visti quindi è molto molto stimolante! Oh, tutto il mezzo! Siamo sempre più vicini alla salita! Tocca fare i fornimenti! Ah che bello! Sì, adesso dobbiamo fare un veloce pitch stop perché il bro ha fame! Dobbiamo carburarlo! Eccolo qua il bro! Felice, felice! Fuori dal suo chioschetto dei panini! Molto sportivo perché è presavola eh! Pizz stop fatto! Tutto il mezzo ce lo siamo appena lasciati dietro le spalle e adesso si va su, verso nord! C'è qualche insegna che parla chiaro eh qua! Un certo zoncolan segnato un po' da tutte le parti! Non vediamo l'ora di renderlo gravel, di renderlo nostro questo monte! Qui in Friuli ragazzi! I fiumi! Hanno dei letti enormi! Ma che posto è? E poi le ciclabili! Sono una figata veramente! Siamo veramente gasatissimi! Sentiamo il l'hype dello zoncolan che sta salendo, sta salendo, sta salendo! È lì dietro raga, è lì dietro! Lì che ci aspetta! Iniziano i grandi paesi, le grandi città a diminuire! C'è un silenzio pazzesco! Mi sento il profumo di erba tagliata e le montagne sono sempre più vicine! Siamo a noi Aris, alla fontana e di là inizia il nostro zoncolan in gravel! Mamma mia mamma mia! Prendiamo un po' di acqua e iniziamo! Refill fatto! E adesso eccola là! Vai che ci aspetta! Sono le 12 e 31, ci sono 34 gradi, siamo belli caldi in tutti i sensi! Qua gli scalatori si aprono le magliette! Ok siamo subito su sterrato! Il fondo è veramente ottimo e le gomme stanno iniziando a mordere! La prima parte ci diceva Marco che è in mezzo al bosco quindi dovevo beccare un po' di ombra di quello che fa bene! Il bro che tiene d'occhio i dati lui è quello dei dati in salita dice che qui siamo al 23 Oh zoncolan e così! Prenderlo a lasciare! Esatto! E' veramente stupenda questa strada! Wow! Siamo a metà! Circa metà! Vedo 1150 di quota! Noi dobbiamo arrivare a 1750! E' una cosa magica sapere di scalare lo zoncolan per la prima volta ma con le grave l'è insterrato! Cioè guardate qua avanti che strada! Ma più o meno quanto manca voi che sapete! Ahia! Preoccupante! Si sta iniziando ad aprire il bosco! Inizio a scorgere un panorama pazzesco! E' una salita che ogni tanto comunque molla! Lascia rifiatare! Solo che quando molla siamo sul 10% è una delle salite finora più belle mai fatte! E non vedo l'ora di arrivare in cima! Noi là in fondo vediamo lo zoncolan, la nostra meta! E devo ancora capire se è un bene o un male vederlo! Perché da una parte finalmente vedi l'arrivo! Però dall'altra vedi che è lunga ancora! Perché caspita! Devo fare tutto un giro bello largo! Il bro dei due! Non scalatore! Oddio! Se non è che non sto scalatore! Un po' meno dell'altro! Inizio a sentire qua! E' surreale! Non ho mai visto che sia che di montagna ne ho viste! Ma è qua un qualcosa di diverso! Oh! Match up al trattore! Match up a Beppi col trattore adesso! Ultime pontare! Penso! Spero! Mamma mia qua! Siamo adesso al 20% Uh! Bella salita! Bella bella! Siamo arrivati veramente quasi in cima! Questo dovrebbe essere l'ultimo dentino! Ed è in asfalto! Quindi questo zoncolan in sterrato! Grave di cemento! Finisce in asfalto! Eccolo qua! 1750! Stupendo! Guardate qua! Che bel budello di asfalto! Siamo fatta! Grandi ragazzi! Grandi! 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 bella bella! Bella bella! Uh! Allora! Andate! bzw! cimata mai vista stupendo adesso ci fiondiamo giù per qualche chilometro arriviamo a un rifugio ci beviamo una coca o qualcosa perché ce n'è tanto bisogno e guardate che roba dunque ragazza aggiornamento 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 siamo arrivati giù dalla zoncolan siamo alla baita da ricco qui c'ho un menù e adesso introduciamo un po di calorie si sta da dio e il meteo è veramente un alleato qua ci sono un po di cosette tipiche friulane marco ha preso il frico con la polenta invece bro ha preso il ciarsons non so quanto si sente col vento abbiamo mangiato molto bene ho mangiato il frico e avevo voglia di assaggiarlo e adesso scendiamo siamo tornati al caldo in estate piena e vi ricordate stamattina raga qua mi metti i brividi sta puntando adesso lui svolteremo di qua però e dopo i pini le montagne le rocce le mulattiere torniamo alla civiltà nei borghi questa è la chiesa di e voi state vedendo l'albero in questo momento guardate che bella che è piccolo inconveniente marco ha tranciato il filo del cambio stiamo cercando di bloccarlo a metà cassetta lui però chiaramente tende a chiuderlo fino al più piccolo ed è impensabile arrivare così fino all'arrivo ci mancheranno 20 30 chilometri non so ancora quanti precisamente cosa si intravede qua dietro cosa si intravede siamo appena arrivati al lago di cavazzo intanto qui siamo in golden hour piena sono le sei di sera in punto c'è una luce bella bella calda adesso wow wow praticamente un cambio pilota come nelle 24 ore di Le Mans esce Marco esce di scena ed entrati e entrati e adesso diminuiremo un po' l'andatura ma ormai siamo arrivati e volentieri do il cambio a Marco che deve andare a sistemare la bicicletta quindi tu qui di tu ciao ciao marco dove ho messo? siamo arrivati a una centrale elettrica abbandonata abbandonata cioè è quasi inquietante guarda che roba fa quasi paura poi qua tipo c'è una zona tipo acquitrignosa sono dei dei ruscelli il sole che filtra che bel momento guardate guarda che elicottero ragazzo abbandonato più abbandonato della centrale esatto Tieri ci sta facendo scoprire un po' di un po' di robe selvagge oppela ecco dopo una bella sessione di gravel siamo saltati dentro la FWG3 ci dice Tieri che è una ciclabile drittissima che ci porta fino ad Artegna il sole che ormai ci sta dicendo buon Tosi è ora di andare a mangiare clic e tre questo dovrebbe diventare verde dovrebbe magari ci manda a memoria verde via eccola lì la nostra destinazione il castello di Artegna salita finale intanto di encima guardate che spettacolo che spettacolo mamma mia me lo ricordavo bello questo borghetto me lo ricordavo duro ma con questa luce che illumina i sassi è stupendo sì e poi effettivamente è duro c'è niente da dire siamo arrivati una giornata da incorniciare e Marco avevi ragione lo zoncolan è una figata una figata Tieri grazie per quest'ultimo tratto tratto che ci hai spiegato e ho fatto vedere molte cose noi adesso ci sediamo qua e facciamo beviamo qualcosetta e brindiamo al giro di oggi ragazzi grazie come sempre per guardarci ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.